Weee! Non fare il magazzino muffito! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi quale novità non tardano ad arrivare! Nonostante la patch 10.10 sia oramai di qualche giorno fa continuano a venire fuori e ad essere aggiornati. Giorno dopo giorno nuovi elementi che ci fanno capire come andrà avanti questa storyline nella season 10 e quello che dovremmo aspettarci. Nel video di oggi infatti parleremo di 1200 V-Bucks che alcuni di noi potranno ottenere da Fortnite. Io sarò uno di quelli e magari anche tu ti spiegherò in che modo. Parleremo anche del nuovo oggetto consumabile chiamatelo come volete il Junk Rift con tanto di audio e alcuni effetti in game. Quindi ragazzi presto anche l'arrivo di un nuovo item e se ce ne sarà il tempo il nuovo bundle dedicato al concerto. Perché ci sono altri aggiornamenti riguardo queste nuove skin. Prima però volevo ringraziare tutti quelli che utilizzano il codice creator XIUDERONE. Grazie di cuore ragazzi per scioppazzare di prepotenza nello shop. Mi raccomando iscrivetevi al canale in tantissimi e soprattutto... Attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live. Ma prima... Ce l'ho... Mi avete risposto in tantissimi. Io vi amo. Grazie per rispondermi così in tanti. Ai commenti la domandina. Ve la faccio. Easy. Domandina. Mica tanto easy ragazzi. Qual è il tuo pass battaglia preferito? Oramai siamo... Dai la season 10 la stiamo già vivendo alla grande. Il pass battaglia lo avete capito. È bellissimo secondo me questo. Ma il tuo preferito? Tra tutti quelli che hai giocato. Qual è? Ragazzi io sarò nostalgico. Ma il mio pass battaglia preferito rimane quello della season. Numero 6. Bellissime le schien in apertura. Calamity. Tanta tanta roba. Il DJ Lama. La skin finale. Il lupo mannaro. E tanti elementi caratteristici in tutto il pass battaglia. Che a me hanno veramente fatto divertire. Tuttora reputo essere uno dei migliori. Anche se questo qua della season 10. È così e cos'ha. L'avete già visto? Ma quindi... Ciacionate! E vado le cace. Eccolo qua ragazzi. Notizia numero 1. Starter pack disponibile per tutti. Sicuramente lo avrete visto. Se non lo avrete ancora fatto. Pigliatevelo. Perché vale la pena sempre di prendere gli starter pack per due motivi ragazzi. Motivo numero 1. 4,99 euro. 600 V-Bucks. Non è male. Assolutamente. Motivo numero 2. Tutti gli starter pack diventeranno nel futuro rarissimi. Perché sono skin che non potranno mai uscire nello shop. Quindi se non lo avete fatto. Un pensierino secondo me. Vale la pena farcelo. E andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi. Il nuovo Rift Beacon al campo da calcio. Una delle location storiche di Fortnite. Che così come un lampo nella notte subisce. Anzi subirà una drastica trasformazione. Già lo abbiamo visto qua. Sappiamo tutti quello che fa il Rift Beacon. Quindi trasporta un'intera porzione di mappa. Da chissà dove. Proponendo una nuova location. In questo caso invece le cose cambiano notevolmente. Questo ve l'avevo fatto vedere nel video di ieri mattina. Dell'altro ieri mattina. Una visuale dall'alto. Oggi abbiamo delle immagini più dettagliate. Guardate che cavolo succederà. Ragazzi non esisterà più nulla. Non ci sarà niente. Ed è stranissima questa cosa. Ha battuto completamente il campo da calcio. La piscina dismessa e il benzinaio. Altri immagini. Lasciate perdere le scie della meteorite. Non c'entrano niente. Servono solo per poter caricare le texture. In alcune parti di gioco. Non guardate ovviamente la posizione. Perché non c'entra nulla. Ma ragazzi come vedete. Stiamo guardando le immagini di profilo. E non c'è niente. Qualche porta. Qualche tubo. Sappiamo che c'è il distributore. E' stato ottenuto. Ma nient'altro. Tornano però curiosamente. Delle ossa. Queste qua ragazzi. Questi sono gli scheletri che troviamo. Sparsi anche nel bioma del ghiaccio. Vicino alla caverna. Non so se avete capito dov'è. Quindi ragazzi. Chi lo sa. Che cosa ha in mente Epic Games. In realtà che cosa ha in mente il visitor. Per il campo da calcio. E perché decidere di rimuovere. Così dal nulla. Una location. Ma andiamo avanti ragazzi. Con il prossimo argomento. Che è il junk rift. Uno degli oggetti più attesi. Adesso che si è capito bene. Come funziona. Nei prossimi giorni. Non sappiamo ancora quando. Non è ancora. Ufficiale la notifica. Nella sezione. Notizie. Sappiamo però ragazzi. Che il junk rift. Come ci suggerisce. La schermata di caricamento. Che ci verrà regalata. Fa apparire. Degli oggetti. Sopra. La testa degli avversari. Io rido. Perché. Che. Cavolo vuol dire. Va bene. Cioè ci sta. Mi hai messo il robot. Puoi mettermi veramente anche. Le banane sbucciate. E gli ananas secchi. Perché oramai. Dopo il robot. Ho visto veramente tutto. Su fortnite. Lo raccogliamo. Junk rift. Che probabilmente. Sarà. Di rarità. Leggendaria. Facciamo una cosa. Mentre vi parlo del junk rift. Vi faccio sentire. Alcuni. File. Audio. Relativi. Se ce li ho. Ce li ho. Non ce li ho. Sì che ce li ho. Devo solo trovarli. Cavolo sono. Eccoli qua. Mi faccio sentire alcuni file audio. Intanto vi spiego un attimo. Due cose. Anzi vi faccio anche vedere. Cosa cavolo. Fa questo junk. Guardate ragazzi. Gli effetti che state vedendo. Sono relativi appunto. A quello che accadrà. Lasciate perdere ovviamente. Che vedete la roba in cielo. Non c'entra niente. Il fatto. Voi guardate l'effetto. Ed ecco qua. Mentre parliamo. Alcuni effetti. Del junk ragazzi. Che appunto. Si potrà raccogliere. Si potrà lanciare. Verso il nostro avversario. E si. Farà una crepa nel cielo. Che rilascerà. Un oggetto. Abbastanza particolare. Perché ce ne sono alcuni. Di oggetti. Il proprio. L'ubicab. Verrà rilasciato. Verrà rilasciato. Un martellone. Probabilmente. Non verranno rilasciati i dinosauri. Come suggerito. Dalla. Schermata di caricamento. Ma oggetto davvero. Molto molto interessante. Perché anche qua. Va a stravolgere il gameplay. Abbiamo anche il mirino. Ragazzi. Questo sarà proprio. Il calibro. Del lancio. Dell'oggetto. Come vedete. Il cerchio. Dovrebbe essere appunto. La parte centrale. E poi. Le varie tacchette. Stanno a significare. La distanza. Che dovremmo prendere. Quindi vedremo. Vi stavo dicendo. Che sarà di rarità. Probabilmente. Leggendaria. Non penso che ne potremmo portare. Più di uno. Massimo due. A persona. Staremo a vedere. Non appena arriverà. Che cavolo farà. Nel gameplay. E andiamo avanti ragazzi. Con l'ultimo argomento di oggi. Ve lo ricordate. Questo. Famiglio. Questo animale. Allora. Bonesi. Sarebbe. Il nostro. Ossicino. Ragazzi. Quindi. Season. Numero 6. Tra le altre cose. Con vari stili personalizzabili. Qualche giorno fa. Due. E' uscito. L'artigliere. Ed effettivamente. Tutti ci siamo un po' detti. Ma minchia. Mille V-Bucks. Per un animale. Che è assolutamente. Uguale. Identico. Per colore. Per eh. A quello che già abbiamo. Solo che gli cambia la bandana. Beh ragazzi. Arriva un tweet ufficiale. Di Epic Games. Che dice. Ci scusiamo. Per l'inconveniente. Non abbiamo. Deciso. Noi. Di rilasciare. Artigliere. Vabbè. Non voglio commentare. Chi cavolo. Cavolo. Abbia deciso. Ma. Tutti quelli che hanno acquistato artigliere. Come me. Riceveranno. Mille V-Bucks. Più 200 V-Bucks. Quindi. Mille. E duecento. V-Bucks. Gratis. Purtroppo. Però. L'artigliere. Verrà rimosso. Dall'armadietto. Perché probabilmente. Sarà. Uno stile. O un qualcosa. Che ci regaleranno. Più avanti. Effettivamente. Era molto. Molto strano. Che ci fosse. Un animale. Così. Simile. A mille V-Bucks. Beh ragazzi. Io vi ringrazio. Tantissimo. Per avere guardato. Questo video. Mi raccomando. Un bel pollicione in su. Iscrivetevi al canale. Noi. Ci vediamo alle 8 in live. Ciao. Noi. 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 Grazie a tutti.